Pediatria Pesaro, possibile accorpamento all'ospedale di Fano. Turismo, estate deludente, ecco dove potrebbe migliorare l'offerta. Ristorazione abusiva in spiaggia e campagna, la denuncia di Confcommercio. Da oggi sconti su taxi per diabetici per visite e controlli. WL, domani parte la nuova stagione. WL, domani parte la nuova stagione. Il nostro Tg di oggi, venerdì 18 agosto, che apriamo parlando di sanità dal reparto di pediatria dell'ospedale di Pesaro, che sembrerebbe chiudere in vista di un accorpamento al Santa Croce di Fano. Le motivazioni e i dettagli all'interno del servizio. Dopo il ripristino avvenuto poco più di otto mesi fa, il reparto di pediatria di Pesaro rischia nuovamente di essere accorpato al Santa Croce di Fano. Ipoteticamente una mossa identica a quella fatta dalla precedente amministrazione regionale nel periodo risalente al Covid, ma che dopo quasi tre anni aveva visto il ripristino del servizio a Pesaro, nonostante le numerose difficoltà. Un dietro front provocato probabilmente da un'accelerazione negli spostamenti dei reparti in vista della realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia, che però disterebbe ancora anni luce dalla partenza del cantiere prevista per settembre 2024, data che pare difficile da rispettare. Si tratterebbe di un accorpamento per cinque anni, dove le motivazioni, oltre a quelle di creare spazi per i reparti che devono sgomberare da Muraglia, sembrerebbero diverse. Tra queste la bassa attività dei ricoveri paragonate alle alte spese necessarie per mantenere i pediatri privati, i cosiddetti aggettone. Una strategia che ispira fiducia al consigliere regionale Baiocchi, convinto che in questo modo i lavori del nuovo ospedale vengano velocizzati. Del parere totalmente contrario è invece Biancani, che lamenta le spese fatte appena nove mesi fa per ripristinare al San Salvatore un servizio che ora parrebbe venire meno. Oltre a non credere allo spostamento dei reparti di Muraglia, vista ancora la mancanza di un progetto chiaro del nuovo ospedale. Attraverso un comunicato, il direttore sanitario dell'Ast di provincia, Edoardo Berselli, ha fatto sapere come in corso ci siano valutazioni tecniche per gli spostamenti dei reparti nel rispetto delle priorità di ognuno. Contestualmente, per essere pronti con il cantiere per il 2024, sono state avviate le procedure per l'acquisizione di immobili idonei in cui trasferire temporaneamente le strutture sanitarie. L'obiettivo è trovare soluzioni che impattino il meno possibile sui bisogni dei pazienti, considerando però che si tratta di interventi momentanei in vista di una rivoluzione sanitaria che coinvolgerà non solo la struttura ospedaliera di Pesaro, ma anche di Fano, Pergola e Urbino. Dalla sanità passiamo al turismo. A Pesaro quest'estate si è registrato un importante calo di affluenze turistiche che ha riguardato soprattutto gli italiani. E proprio per questo motivo, con Paolo Costantini, presidente dell'APA Associazione Pesarese Albergatori, abbiamo analizzato dove potrebbe essere migliorata l'offerta turistica di Pesaro nei prossimi anni. Più stranieri e meno italiani. Come su gran parte d'Italia, anche a Pesaro il turismo ha registrato un'affluenza maggiore di famiglie provenienti da fuori penisola. Affluenza che però, nella città capitale della cultura 2024, complessivamente ha registrato finora un netto calo rispetto alle presenze di un anno fa, segnando tra i mesi di giugno e luglio una perdita di circa il 20%. Regressione che ha toccato anche la prima settimana di agosto, salvo poi riprendersi nei giorni attorno a ferragosto, senza però raggiungere il tutto esaurito. Un passo indietro evidente, dovuto soprattutto in un primo momento alle conseguenze provocate dall'alluvione che ha colpito la Romagna a maggio, e poi appesantito dall'innalzamento dei tassi di interesse, provocando minor liquidità nelle tasche degli italiani. E allora pare lecito domandarsi dove una città come Pesaro, in vista anche dell'appuntamento per il 2024, può migliorare nella proposta turistica senza dipendere da fattori esterni incontrollabili. Un possibile ampliamento dell'offerta turistica per Pesaro è stato individuato da Paolo Costantini, presidente di Appautels. Bisogna sempre fare meglio e bisogna diversificare anche nei target turistici. Ovviamente noi partiamo già da una buona base di circa un 80% di attività e di turismo balneare, questo non se lo dobbiamo mai dimenticare perché comunque siamo una località balneare e Pesaro per quel poco che è conosciuta come località balneare. Tutto il resto è da ampliare, bisogna lavorarci con una visione anche di medio periodo e quindi il turismo culturale, il turismo enogastronomico, il turismo più legato ai giovani. Noi non dimentichiamo che siamo vicini alla Romagna e i nostri giovani ovviamente dobbiamo impedire che vadano nelle serate del sabato sera in Romagna. Quindi va benissimo le attività ricreative per i giovani a Pesaro, anzi potrebbero essere anche meglio organizzate e ampliate. Se da una parte ci sarebbe l'intenzione di ampliare le proposte per un turismo più giovanile, dall'altra bisogna ancora fare i conti con la voce grossa degli albergatori del lungomare e con il potere decisionale dell'amministrazione comunale. Su questo bisogna più che altro fare una riflessione nelle zone in cui questo avviene, anche perché sono delle attività poco concilianti con quelle che ad esempio sono le attività alberghiere, mentre magari in altre zone della città si possono avere anche luoghi in cui fino a tardanotte si fa festa e si ha delle attività più ludico-ricreative importanti. Ovviamente questo è un aspetto prettamente politico di gestione della città e noi per quanto riguarda la nostra parte possiamo dare delle consigli e possiamo dare la nostra visione, però ovviamente va concertata anche con tutte le altre parti. Il direttore di Comcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha definito sleale e abusiva la ristorazione condotta in questi mesi estivi in alcune spiagge e campagne della provincia, sottolineando lo scarso controllo esercitato dalle autorità competenti, denuncia che verrà presentata nei prossimi giorni alle forze dell'ordine. Credo che ci sia una mancanza di controlli da parte delle autorità perché mai come quest'anno c'è stata un'esplosione di abusivismo e quindi di concorrenza sleale nei confronti del mondo della ristorazione in campagna e lungo le spiagge. Noi faremo una denuncia nei prossimi giorni, la presenteremo alle forze dell'ordine, alla questura, alla prefettura, elencando anche i locali, l'hanno diffuso sui giornali, dove si facevano cene, pranzi, DJ set, musica, vogliamo capire chi aveva l'autorizzazione e chi non aveva, chi aveva la licenza di pubblico spettacolo, perché nel mercato ci vogliono le regole, stesso mercato, stesse regole, ma le regole devono avere per tutti, quindi non è accettabile che abbiamo visto, abbiamo assistito centinaia e centinaia di persone che affollano a prezzi per altri ingiustificati, vista anche la qualità dell'offerta, dell'accoglienza, che affollavano stabilimenti balneari, aziende agricole, insomma è ora di fare la finita. Il mondo della ristorazione ha sofferto molto nel mese di luglio, ha sofferto molto nel mese di giugno, chiaramente adesso nel mese d'agosto c'è stata una ripresa, però anche qui andiamo a vedere cosa consuma la gente nei ristoranti, magari dividendosi una pizza, dividendosi un antipasto, quindi è una situazione di difficoltà alla quale bisogna rispondere con i controlli e con il rispetto delle regole, altrimenti diventa veramente una repubblica delle banane che abbiamo trasformato l'Italia in una repubblica delle banane. La scomparsa del consigliere comunale Roberto Biagiotti ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche tra la politica pesarese. Biagiotti, prima del decesso avvenuto giovedì 10 agosto, dopo una breve malattia, ricopriva anche il ruolo di consigliere provinciale, ruolo per cui ora in consiglio provinciale è stata approvata all'unanimità la surroga con Carmelo Luigi Scopelliti, già consigliere comunale di Fano, il quale si era candidato alle elezioni del dicembre 2021 con la lista provincia in comune. Arriva un'importante novità per chiunque sia affetto da diabete e iscritto all'Associazione Diabetici di Pesaro. Da oggi infatti potranno usufruire di uno sconto sui taxi, sulle tratte finalizzate a visite mediche o di controllo presso i centri ospedalieri interessati. Una scontistica, che ha un valore del 30% in meno per tutti i passeggeri affetti da questa malattia, e una tariffa fissa del costo di 8 euro per le tratte dal centro di Pesaro all'ospedale di Muraglia. Un'idea, nata da Gabriele Stancu, tassista cittadino da 10 anni, è entrato in contatto con Paolo Muratori, presidente dell'Associazione Diabetici di Pesaro. Un'iniziativa solidale che coinvolge 24 taxi della città. Per prenotare una corsa basterà telefonare al numero 351 79 70 951. La Team System, azienda marchigiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha comunicato che una società interamente controllata dall'Abu Dabi Investment Authority e Capital G hanno stipulato degli accordi per l'acquisizione di quote di minoranza della società. Si tratta di investimenti che segnano un'altra importante pietra miliare nel percorso di Team System, orientato ad abilitare la trasformazione digitale delle imprese dell'Europa meridionale. Team System, con sede a Pesaro e operazioni in Italia e all'estero, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 695 milioni di euro e può contare su oltre 3.000 dipendenti. Le operazioni dovrebbero essere perfezionate nel corso del primo trimestre del 2024. Per ora non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione. Dall'1 al 3 settembre torna la festa dell'unità a Montecchio di Vallefoglia nel parco Guido Volponi. Tre giorni di socialità e discussioni per i quali sono state confermate le presenze di Stefano Bonaccini per l'apertura di venerdì 1 settembre alle 18.30, Dario Nardella e Camilla Laureti per il dibattito di sabato 2 settembre alle 20.30. Il resto del programma sarà comunicato nei prossimi giorni. Si è conclusa con ottimi numeri la tredicesima edizione di Birra d'Augusto promossa dall'associazione Fortuna Dea terminata nei giorni scorsi a Fano. In 5 giorni sono state circa 10.000 le presenze tra cittadini e turisti incuriositi dall'assaggio di 80 varietà di birre proposte, presentate dalle 20 aziende coinvolte delle quali 11 artigianali. Evento caratterizzato anche dalla novità lanciata da Confesercenti ovvero l'abbinamento tra il risotto al brodetto preparato dagli chef dell'associazione professionale Cuochi Italiani e la brodetto bir realizzata appositamente dal birrificio fanese Renton. Torna l'appuntamento con Gradara Ludens Festival. Il 23-24 settembre laboratori, seminari, momenti didattici e incontri con associazioni, case editrici e artisti oltre alla consegna del premio Gradara Ludens coloreranno l'antico borgo di Gradara della loro dimensione ludica. Un atteso ritorno che sarà riproposto al pubblico in una versione ridotta ma comunque ricca di fascine e sorprese. Per l'occasione il Museo Marv ospiterà una rassegna espositiva dedicata al gioco antico. Passiamo ora allo sport. Domani parte ufficialmente il nuovo cammino della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha svelato il programma del precampionato della stagione 2023-2024. Messa nel mirino la trasferta di Brescia per la prima di campionato, la stagione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sa presto ad accendersi con un'intensa pre-season. La squadra di coach Buscaglia inizierà il suo cammino domani, sabato 19 agosto con il rituale raduno e visite mediche, previste anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 agosto. In quest'ultima dati i biancorossi partiranno per il consueto ritiro di Carpegna dove affronteranno le prime sedute fisiche e atletiche fino al 28 agosto, in attesa della prima apparizione in campo che sarà il 3 settembre alle 19 al Palacattani di Faenza contro la Virtus Bologna. Tre giorni più tardi Tambone e compagni saranno impegnati a Recanati alle 19.30 contro la benacquista Assicurazioni Latina. Nel fine settimana del 9 e 10 settembre altre due partite per la VL che sarà di scena a Sansepolcro per il trofeo Dux. Sabato 9 alle 20.30 l'avversaria sarà la formazione romena del CSO Voluntari Bucharest, mentre domenica 10 alle 18.30, in base all'esito del match del giorno precedente, i biancorossi se la vedranno contro una tra Gevinapoli e destra Pistoia. Venerdì 15 e sabato 16 settembre altri due giorni in Toscana, stavolta per il trofeo Carlo Lovari in programma a Lucca. Alle 18.30 palla due del match tra Carpegna, Prosciutto Basket Pesaro e Tortona. Sabato 16 si tornerà sul parquet per sfidare una tra Venezia e Pistoia. L'ultimo appuntamento prima del debutto in campionato è previsto nel weekend del 23-24 settembre a Jesolo per il secondo Memorial Luca Silvestrin, dove alle 18.00 di sabato la VL si sfiderà contro Treviso, mentre domenica affronterà una tra Reggio Emilia e Venezia. E dai biancorossi della VL ai biancorossi della Vis Pesaro Calcio. Oggi la Lega Pro ha diffuso date e orari di anticipi e posticipi per le prime quattro giornate di campionato, con lo start previsto nel weekend del 3 settembre. Il debutto dei ragazzi di Mister Banchieri sarà sabato sera 2 settembre alle 20.45 a Ferrara sul campo della Spal, mentre la prima casalinga è in programma venerdì 8 settembre alle 20.45 contro l'Olbia. Con questo si conclude l'edizione odierna di Rossini News, ma prima dei saluti un'occhiata ai programmi della nostra serata. Abbiamo la cinquantesima edizione del Festival del Gallo d'Oro, replica della serata conclusiva, quella dove si scoprirà chi è il vincitore. Ricordiamo poi per il ritorno dell'informazione domani mattina la rassegna stampa Buongiorno Rossini, alle 7.20 in diretta anche Facebook, poi le repliche 8.20, 12.20, 14.20, 18.20, domani sarà condotta dal nostro Antonio Astuti. A questo punto, prima di lasciarvi al meteo, non restano comunque che i saluti e l'invito come sempre a rimanere sintonizzati sul canale 80 di Rossini TV. Buona serata a tutti.